Quali sono i dati del terziario nel Piemonte, soprattutto nel VCO? I dati del terziario del Piemonte Nord sono positivi. Cosa molto interessante è che questa positività è ancora maggiore nel caso del VCO. Considerate che il terziario del VCO rappresenta oltre i due terzi dell'economia locale, sia in termini di attività, sia in termini di assunzioni. Un elemento importante è che i tre settori, commercio, turismo e servizi, di cui è composto il terziario, nel VCO crescono entrambi, tutti e tre, ed è una particolarità proprio del VCO, mentre in altre aree il commercio tende un po' a flettere. Quindi un elemento positivo è che tra questi settori, in questo territorio, si crea una sinergia che non c'è altrove. Naturalmente questa sinergia poi si riflette anche sulla crescita di attività in alcuni ambiti, tra cui anche quello della manutenzione dell'arredo urbano, quindi attività di natura anche sociali oppure che hanno valenza urbanistica. Un terziario sempre più in crescita nel VCO? Sì, sicuramente è uno dei rapporti che funziona. Si vede proprio da questi confronti come il terziario, soprattutto nella provincia del VCO, è in grande crescita, dovuto soprattutto a un turismo, a una ristorazione di qualità. È importante perché stiamo veramente salendo, per cui abbiamo un più 2,4, che è importantissimo contro la media nazionale che non va oltre l'1%, per cui siamo felicissimi di come sta andando la situazione.